In questo video spieghiamo le cose più importanti sul tema Compliance. Il termine Compliance indica la conformità alle regole, ovvero è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, degli standard normativi, nonché dell'adempimento di altre specifiche, standard e requisiti chiave, stabiliti dall'azienda stessa. La Compliance nel Gran Casino Baden e Sugekpoz.ch è responsabile per il rispetto della legge sui giochi d'azzardo, e della legge sul riciclaggio di denaro. La legge federale sui giochi in denaro, o LGD, è entrata in vigore nel 2019. Regola l'ammissibilità del gioco d'azzardo e la sua attuazione, nonché l'utilizzo dei proventi del gioco. Noi come Casino abbiamo un concetto sociale e dobbiamo mostrare quali misure prevediamo per la protezione delle giocatrici e dei giocatori. In particolare, dobbiamo adottare misure per quanto riguarda la diagnosi precoce, l'autocontrollo e le restrizioni al gioco d'azzardo. La legge sul riciclaggio di denaro, si applica agli intermediari finanziari e disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro, la lotta contro il finanziamento del terrorismo e la garanzia della diligenza nelle attività finanziarie. Le auguriamo buon divertimento e un gioco sicuro su jackpots.ch e al Gran Casino Baden.